Gli hours del calcio siciliano si è appena concluso, Maurizio Nassi ha vinto il pallone d'oro, lo facciamo vedere, il primo della storia, l'organizzatore Carmelo Di Cerdello è andato alla grande assolutamente. Sì, devo dire che c'è stato seguito di gente, sono venuto da tutte le province della Sicilia, di questo ne sono molto contento, sono contento che siamo ripartiti con questa novità del pallone d'oro siciliano, lo ha vinto Nassi, è un premio meritato anche per la sua carriera perché Nassi ha giocato in categorie importanti, è stato artefice del Gela quest'anno per la Serie D, è andato tutto bene. Buon Bernassi fino alla fine anche con il pallone, di solito si porta a casa quando si fa la tripletta in questo caso, ci siamo. Questo è un premio che mi inorgoglisce per tutto quello che ho fatto e per quello che ho fatto quest'anno, sono contento, felice, ringrazio l'organizzazione, è stata una bella serata, spero che ce ne siano altre perché è stata veramente organizzata nei minimi dettagli.